benvenuti a una conversazione ormai ci siamo abituati alle conversazioni online ovviamente in tempo di covid si fa così oggi abbiamo due ospiti due ospiti che arrivano da due mondi diversi abbiamo da una parte francesco bianconi cantautore una carriera con i baustelle e una carriera anche da solista e poi anche una diciamo una terza lo diciamo da romanziere comunque e questo ci serve per introdurre il secondo ospite ovvero nicola la gioia autore premio strega nel 2015 direttore del salone del libro di torino una coppiata che abusato modo di dire abusato coppia strana fino a un certo punto perché perché tutto lo stimolo di questa conversazione è partito da francesco bianconi che leggendo il libro di nicola la gioia la città dei vivi si è come dire ritrovato in alcune paure alcune delle paure raccontate nella città dei vivi che è un romanzo che parte dall'omicidio dal delitto del collatino con la storia di cronaca del 2016 l'omicidio di luca varani nicola la gioia parte da un racconto di cronaca dura nuda cruda per poi esporsi a temi più universali cioè non è un instant book anche perché arriva quattro anni dopo su su un omicidio su una vicenda processuale francesco leggendolo ha ritrovato come dire dei fantasmi all'interno di della sua analisi personale e quindi ne è nata un'idea di un di questa di questa conversazione francesco visto che sei stato il motore di questo vorrei capire in che cosa i fantasmi agitati nella città dei vivi abbiano risvegliato in te qualcosa di inquietante immagino sì di molto inquietante sicuramente ho trovato ho cominciato a leggere il romanzo di nicola e ho subito dalle prime pagine trovato dei particolari che in qualche modo hanno mi hanno colpito da subito sono stato catturato da subito ad esempio ma anche una cosa stupida il libro si apre con una scena di una Roma invasa dai gabbiani che mangiano i topi io quest'estate sono andato per motivi familiari sono andato a prendere mia figlia a Roma e siamo rimasti un giorno era più o meno ferragosto c'era questa spettrale Roma svuotata sembrava un racconto di fantascienza un po' per covid un po' per ferragosto per cui abbiamo fatto i turisti mia figlia diciamo era già stata a Roma ma era appena nata per cui abbiamo approfittato di questo scenario e mia figlia a un certo punto mi fa guarda a fontana di tre guarda papà un gabbiano che mangia un topo ed è una cosa che nicola racconta ad apertura diciamo del del suo del suo romanzo e per dire quello è stata subito una stimolazione che e poi come dire questo nel particolare ma poi diciamo tutto il libro tutto il racconto è mosso secondo me da un da una paura che un po' anche io e che è quella di rendermi conto di essere sempre più un essere umano nel nel teatro di chi non ha più paura di essere la la vittima ma comincia ad avere paura anche di essere poter diventare carnetici in un qualche modo o o in un modo che 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 è un po quello raccontato del libro il famoso senza movente non far parte di una società che che produce atti efferati per così dire senza movente ecco per cui ho subito trovato una una questa cosa mi ha colpito direttamente da subito e ho letto il romanzo tra l'altro in pochissimo tempo l'ho lo lo divorato e ammetto che è stata una lettura allo stesso tempo piacevole anche disturbante insomma per cui ecco questo mi ha spinto ho subito mandato un whatsapp a nicola per 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 dire che questo suo libro mi aveva in qualche modo smosso colpito profondamente come secondo me poi dovrebbe essere dei dei romanzi delle delle canzoni della cosiddetta arte anche in generale nicola tu con questo romanzo hai fatto un viaggio attraverso fatti di cronaca e carte processuali ma in realtà poi è anche molto un viaggio direi addirittura triplo uno dentro te stesso e uno dentro dentro la società come giustamente diceva francesco prima questa idea di una società in cui ormai appunto le cose possono accadere senza una volontà questo questo viaggio sociale come l'hai come l'hai raccontato come ti è entrato dentro allora andrea io rispondo alla tua domanda però prima fammi dire perché secondo me io e francesco biancoi non siamo tanto una coppia strana ma insomma c'è per tutta una serie di motivi che vanno veramente da sussidiare il stato della giovinezza a forever francesco lo sa però i nostri ascoltatori non lo sanno quindi riassumiamo sono il primo album dei bastelle e il primo album della carriera solista di francesco appena uscito esatto sì sì dicevo appunto non poi sai gli incontri sono fatti anche di aneddoti divertenti a parte che è bellissimo quando il tuo cantautore preferito ti manda un whatsapp dove ti dice che gli è piaciuto il tuo libro ma io per esempio mi ricordo benissimo la prima volta che senti parlare dei baustelle fu al circo massimo quindi a roma con un traduttore che si chiama matteo colombo molto bravo che come se stesse spacciando una sostanza strana ci passa un'audiocassetta dicendo guardate questi qua sono di monte pulciano sentitevi c'ero io un'altra traduttrice che si chiama martina testa che la traduttrice di cormac mccarty quindi sarebbe sarebbe diventata dopo perché sto dicendo questa cosa qua perché c'è una tensione secondo me poi non so se francesco è d'accordo o meno che va da sussidiario a forever che fa questo passaggio di cui francesco parlava cioè io l'impressione mentre in brani di sussidiario come come poteva essere che non so la canzone del riformatorio cioè l'elemento borderline c'è sempre stato nell'immaginario di francesco dei baustelle poi di francesco appunto da solo però se voi prendete la tensione che c'è tra una canzone come la canzone del riformatorio ad assassinio dilettante che c'è in in forever c'è un cambiamento secondo me importante cioè almeno così la sento io e io parlo della mia esperienza di di ascoltatore cioè mentre in nella canzone del riformatorio francesco parla anche se è in prima persona ma parla di qualcun altro cioè è proprio come gli eroi di genè come gli eroi appunto della letteratura francese o della nouvelle vague di cui appunto noi ci siamo innamorati ci siamo abbeverati da ragazzino tant'è vero che quella nonostante sia una canzone che parla di violenza è anche una canzone scanzonata ma se uno passa da quella a appunto all'amore alla violenza e poi a forever c'è un coinvolgimento personale sempre più crescente cioè quel protagonista lì non è più quello che guardavo da ragazzino eh mezzo borderline che mi piaceva e che era anche liberatorio ma sto diventando io e quindi è molto più più problematizzato ed è molto più verticale ed è molto più drammatico e forse anche coinvolgente in maniera diversa rispetto a prima a parte che poi l'elemento di roma da cine città a piangi roma insomma c'è sempre stato anche nel suo immaginario oppure non essendo eh francesco di roma ma neanche io sono di roma di questo caso qua sì io ho trascorso quattro anni parlando eh no della della città dei 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 vivi che eh appunto questo libro sull'omicidio appunto di Luca di Luca Varane ho passato quattro anni sia a raccogliere materiale ehm testimonianze ma anche poi a incontrare persone a parlare con 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 chiunque potesse darmi elementi eh su questo omicidio terribile dove ci sono vari elementi inquietanti il primo la violenza un po' ultra violenza cioè quasi da zona di guerra dove il diritto è sospeso anziché da omicidio metropolitano il secondo come tu dicevi Andrea l'assenza di un di un movente non c'è nessuna ragione per cui Prato e Foffo massacrino un ragazzo di ventitré anni ma la cosa ancora più inquietante è che loro cioè gli assassini che pure si ascrivono questo omicidio cioè Manuel Foffo confessa al padre il giorno stesso giorno dopo di aver ammazzato un ragazzo ma poi a parte che non sa manco chi ha ammazzato quindi ma chi è sembra veramente eh un romanzo inizio novecento per l'assurdo sembra camminulo stranino ma chi è che ha ammazzato dice il padre a mano il Foffo e Foffo dice non lo so con le lacrime agli occhi però poi lui e Prato non sanno spiegarsi perché l'hanno ammazzato è come se loro stessi ai loro stessi inquirenti ai loro stessi accusatori chiedessero ma spiegateci voi che cosa abbiamo fatto che non ce ne capacitiamo cioè la cosa sconcertante che mentre che ne so nel classico omicida di Dostoievski Raskolnikov di diritto e castigo c'era tutta una serie di caratteristiche c'era il libero arbitrio cioè decido o non decido di fare qualcosa cioè di commettere un crimine poi c'è la successiva assunzione di responsabilità ok sono stato io ho ammazzato io questa persona l'eventuale maturazione del senso di colpa e poi l'eventuale decidere se costituirsi o meno ma questi due mancando il primo elemento cioè loro non ascrivendosi il primo elemento cioè non abbiamo fatto questa cosa soverchiati da una volontà che non siamo riusciti a forza che non come se fossero degli impossessati che non siamo riusciti a controllare e di conseguenza se tu gli togli il libero arbitrio se loro si autotolgono da loro il libero arbitrio come possono poi maturare una colpa come possono poi e questi sono i pilastri su cui si basa l'uomo moderno che qui sono ridotti a brandelli quindi tutti questi elementi mi hanno fatto sì cioè poi accadeva poco distante diciamo così da dove abito io e quindi tutti questi elementi hanno fatto sì che dall'inizio fossi proprio risucchiato in questo caso insomma poi stato risputato fuori quattro anni dopo come c'è un altro lato comune che non siete coppia strana lo dicevi lo accennavi tu prima al percorso di francesco forever è un disco molto personale di francesco un disco che lui ha raccontato quasi essere di 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 autoanalisi allo stesso modo tu in questo in questo romanzo non ti limiti al racconto di cronaca perché a un certo punto racconti te stesso anche per te è stato quasi un qualcosa di rivelatorio che ha portato te stesso a fare un percorso di autoanalisi sì io ho pensato che raccontando fatti veri e raccontando io tutte le persone con cui sono venuti in contatto ho detto a tutti quanti che io stavo scrivendo un libro quindi ho messo le mani avanti diciamo per onestà ovviamente anche i genitori della vittima l'assassino stesso con cui ho avuto l'ultimo rimasto in vita perché l'altro purtroppo si è suicidato in carcere con cui ho avuto un carteggio di due anni glielo dicevo che ci stavamo scrivendo perché io appunto stavo scrivendo un libro però detto questo tu lo dici appunto per onestà però poi la decisione di scrivere sempre un atto arbitrario quindi contiene in sé un elemento diciamo così violento di per sé io decido di scrivere la tua storia che tu lo voglia o meno anche se te lo dico quindi ho pensato che per compensare questa cosa qui in qualche modo io dovevo raccontare non potevo raccontare i fatti propri se non raccontavo anche i fatti miei che ovviamente sono meno scandalosi e meno inquietanti di quelli che riguardano per fortuna Foffo e Prato però come dire cioè mi è subito scattato il che cosa sarebbe successo se io da ragazzo come a volte succede da ragazzi non a tutti i ragazzi ma insomma a molti ragazzi succede ho avuto insomma una fase abbastanza turbolenta che sarà durata 3-4 anni in cui come si dice a Roma un po' me la sono rischiata e quindi mi sono mi chiedevo nel libro se quella volta che sono salito in macchina ubriaco anziché schiantarmi contro la macchina parcheggiata avessi preso sotto qualcuno se quell'altra volta che pure in stato confusionale ho lanciato delle bottiglie da un palazzo avessi preso in testa qualcuno anziché come sarebbe cambiata la mia vita sarebbe cambiata forse radicalmente forse mi sarei fatto sei mesi di galera in galera che sa che cosa sarebbe successo cosa mi sarebbe successo quindi il fa quindi l'elemento del per tornare a quello che diceva prima Francesco appunto noi abbiamo quasi oggi una vocazione che quando eravamo ragazzini non esisteva questa cosa qua oggi abbiamo quasi una vocazione vittimaria cioè quasi chiediamo di essere delle vittime per poter vantare poi un diritto da una parte è vero che ci sentiamo defraudati di qualcosa tutti quanti noi più o meno apparteniamo alla classe media la piccola borghesia e quindi negli anni abbiamo perso delle posizioni quindi è giusto sentirsi in credito per qualcosa però non bisognerebbe spacciare questo credito per un credito universale cioè il fatto di sentirsi vittima per sentirsi sempre in credito nei confronti di tutte le persone che incontriamo è molto più complicato oggi immaginare di fare del male a qualcuno ma noi facciamo male continuamente anche non volendolo alle persone che ci stanno vicine solo che riuscire ad ammetterlo sarebbe liberatorio siamo circondati da un clima che fa sì che questa cosa qua è proprio proibita anche il fatto di con fra un po di confessare i propri cari di aver fatto una cazzata ai loro confronti e chiedergli scusa forse questo riusciamo ancora a farlo ma sempre con più difficoltà ecco perché insomma forse la letteratura la musica l'arte in generale da questo punto di vista potrebbero essere un minimo liberatori rispetto diciamo così al discorso mainstream al discorso pubblico che ci contamina tutti quanti tra l'altro tu sei partito da uno spunto di cronaca e mi viene in mente visto che ricordavamo prima i baustelle anche anche francesco nel in amen c'è una canzone sulla tragedia di vermicino come la appunto la creatività in due modi di espressione così diversi come può essere una canzone un romanzo spesso la si vede staccata dalla cronaca in entrambi casi invece avete preso proprio dei casi di cronaca vera cioè la morte di alfredino rampi nel caso di alfredo canzone di baustelle e il delitto del collatino nel nel tuo caso qual è la spinta che porta la creatività a rivolgersi all'esterno ma con una cosa ben precisa non una tendenza un qualcosa che l'antenna dell'artista intercetta ma appunto un fatto di cronaca ma per quanto mi riguarda la canzone a cui fai riferimento era un episodio che per me ha significato che mi ha molto colpito è stato un caso di cronaca che a me all'epoca era un bambino avevo credo più o meno l'età di alfredo rampi quindi sei sette anni quando è successo e per me è stato non è stato come scrivere una canzone su un caso di cronaca per me era scrivere una canzone sulla mia giovinezza la mia giovinezza è stata anche quello io io la mia diciamo fanciullezza è stato è stato quel caso di cronaca il il mio primo venire a contatto con 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 la con la cosa che la vita potesse essere anche violenta in qualche modo io vivevo in questo paese in questo quadretto abbastanza bucolico idilliaco insomma dove non succedeva niente dove si stava bene in famiglia la campagna a un certo punto tramite la televisione quindi arrivo è come se mi fosse arrivata un cazzotto il primo vero pugno in faccia invece di fare a botte con i miei compagni io ho ricevuto la prima dose di una fine dell'innocenza con la vita tramite questa telecronaca che doveva essere doveva avere un happy ending no perché è anche un po per quello che 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 i mezzi di comunicazione le televisioni andarono anche per poter nella speranza di poter filmare un un salvataggio la cosa ovviamente andata andò al contrario e per cui a me arrivò quella cosa però ecco io scrissi la canzone al tempo di Amen perché volevo raccontare la mia fanciullezza la volevo raccontare la perdita dell'innocenza è ovvio che secondo me credo e poi Nicola ce lo può dire meglio il lavoro che lui ha fatto credo con con il delitto del collatino sia di altro tipo lì c'è uno studio maggiore Però una totale, non so, è durato anni, ecco, significa documentarsi. Per quello che mi riguarda, poi la cronaca, la storia, qualsiasi cosa può essere oggetto di indagine anche e può diventare spunto per una canzone, per un libro. Però deve passare attraverso te stesso, deve essere filtrato così come il suo romanzo e così come anche la canzone di Alfredino, deve essere in qualche modo interiorizzata. Ma Nicola, a contatto... Posso provare, scusa Andrea, perché mi ricollego ad Alfredo per provare a dire un po' un'intersezione, scusa se ti interrompo. Secondo me, se vogliamo trovare appunto, non perché dobbiamo trovarle per forza, ma perché ci sono delle costanti, come dire, nell'espressione artistica rispetto alla realtà, quando si occupa di realtà. Allora, che cosa fa Alfredo, secondo me? Io mi ricordo benissimo la prima volta che sentivo la canzone, ora voglio mettere a fare l'esegeta di Francesco. Però c'è un elemento, come dire, lì, importante rispetto alla cronaca. Dal titolo, non si chiama Alfredino, si chiama Alfredo. C'è una restituzione di dignità ad Alfredino, forse anche a tutta quanto una generazione, per questo Francesco ha parlato di una canzone generazionale, perché fino a quando tu, fino a quando io, nell'occhio dei media, divento un vezzeggiativo, un diminutivo, non non sarò mai adulto, ma non sarò mai, come dire, sarò sempre qualcosa di manipolabile, utilizzabile dagli altri. Mentre Alfredo acquisisce una sua, una sua proprio autonomia, dignità, cioè lì è Alfredo che svetta su tutti quanti gli altri, mentre Alfredino è appunto colui che può essere maneggiato da chiunque, a propria... E quindi è una restituzione di dignità da una parte, mentre nel mio caso forse è un tentativo di restituzione di umanità. Cioè, noi perché abbiamo così difficoltà con i carnefici e con le vittime quando succedono questi casi? Perché li releghiamo subito al novero delle creature fantastiche. I carnefici sono dei mostri e le vittime o sono dei santi oppure se le sono andate a cercare. Questa è una cosa molto umana come istinto, no? Però non è che tutti quanti gli istinti umani, quindi animali, sono istinti benigni. Cioè, è umano perché noi non vorremmo mai essere le vittime o i carnefici appunto del caso Varani, però quelli sono esseri umani, esattamente... E quindi se sono creature fantastiche non possiamo essere noi. Se sono degli unicorni o se sono dei mostri, noi non siamo degli unicorni, non siamo dei mostri, non ci potrà mai succedere. Invece ci può succedere e soprattutto è anche un modo per togliere, quindi per buttare fuori dalla scena l'elemento tragico che invece ci appartiene. Cioè, la nostra vita sarà segnata prima o poi da... siamo umani, siamo mortali e quindi la tragedia prima o poi si abbatterà su di noi, moriremo noi, moriranno i nostri genitori, moriranno le persone care. Cioè, questa cosa è inevitabile. Però è il più grande rimosso proprio dell'epoca moderna e dopomoderna. Rimettelo al centro della scena, non è che uno lo fa per sadismo ovviamente, ma lo fa per provare a restituire un po' di tridimensionalità e un po' di umanità a queste faccende qui. Io sono rimasto colpitissimo dal fatto che il papà di Luca Varani, in una delle sue non poche invettive, comprensibilissime quando è successa questa cosa, quasi mai ha definito Marco Prato e Manuel Foffo dei mostri, ha detto hanno fatto una cosa mostruosa, che è diverso da dire sono dei mostri, quelli sono umani e sono colpevoli, le due cose possono benissimo andare insieme, non c'è bisogno perché siano colpevoli, che diventino anche dei mostri. Tanto la colpevolezza non gliela toglie, diciamo così, nessuno. Quindi ecco, questo per dire, per questo mi agganciamo poi ad Alfredo, che è una canzone che amo tanto, che l'arte di raccontare storie per canzoni o attraverso i libri deve provare anche a fare questo tipo di cosa qui, rispetto a chi le ascolta e a chi legge. Ma Nicola, visto che siamo tutti e tre oltre i 45 anni, direi, e l'età dell'innocenza l'abbiamo persa. Francesco faceva prima questo riferimento che è stato un primo approccio alla perdita dell'innocenza. Ma a questa età e ritrovarsi a scandagliare così nel profondo un fatto di cronaca appunto apparentemente senza un movente, senza una volontà, a loro insaputa quasi sono, assassini, ti ha fatto perdere un altro pezzo di innocenza o arrivati agli over 40 non si perde più? Entrare così nel profondo, nel dettaglio, nello scavare nella psicologia di questi personaggi? No, ma ha fatto un altro effetto. Cioè, il fatto di essere tutti quanti oltre i 45 anni fa sì che, persino in un paese dove non si diventa mai adulti come l'Italia, a un certo punto sei inevitabilmente adulto, cioè non sei più, hai superato la linea d'ombra. E quindi per la prima volta, una delle prime volte è stato per me, i personaggi che raccontavo nei miei libri non erano più dei fratelli maggiori come potevano essere all'inizio o dei fratelli, diciamo così, coetanei come potevano essere a un certo punto, ma dei fratelli minori, perché le persone che racconto per la prima volta, Francesco ha più di mistichezza con questo, perché lo fa già appunto Climacità Viame, in cui si raccontano dei ragazzini, noi avevamo avuto una curiosità proprio ancora prima di me rispetto alle nuove generazioni con cui, come dire, marcare una diversità da una parte, ma dall'altra proprio un forte interesse. Per me appunto, io mi sono occupato questa volta di ventenni e di trentenni, rispetto a cui c'è proprio un abisso per certi versi. Se anche incomincia ad esserci a proposito dei consumi culturali, a proposito dei riferimenti di tutti i tipi, politici, ideologici, se può usare questa parola e così via, tutto questo in me ha fatto sentire anche un po' un pizzico, cioè più di un pizzico di senso di colpa, non totale, ma diciamo così perlomeno condiviso. Cioè, se i ragazzi crescono in un mondo di merda, fondamentalmente, ora, come dire, in questo mondo non è che l'hanno costruito loro, gli hanno costruito gli adulti. Quindi un elemento di responsabilità ci deve stare, che secondo me non è una responsabilità assoluta, perché se ci prendessimo la responsabilità assoluta peccheremmo di paternalismo, perché vorrebbe dire che non hanno appunto un'autodeterminazione. Però il fatto di sentirsi su piani diversi, in uno stesso contesto, e parte in causa, questa cosa io l'ho sentita. E comunque, quando sei vicino, paradossalmente, a un dolore così straziante come quello che riguarda un omicidio del genere, non perdi ancora di più l'innocenza, anzi, c'hai proprio la possibilità di riavvicinarti a quella cosa lì, perché il non passare mai per il dolore è un altro escamotage proprio per perdere del tutto l'innocenza. Esatto. Sono d'accordo. Sono d'accordo e, come dire, dobbiamo passarci un po' attraverso il dolore. Dobbiamo, secondo me, come diceva prima giustamente Nicola, bisogna avere il coraggio di frequentarli i cosiddetti mostri e non tenerli, se i mostri li tieni, fai i recinti, li tieni fuori casa, diventano ancora più mostruosi. Invece lo siamo tutti, in un certo senso. Per cui io ho scritto una canzone in cui cerco anche un po' di dire questo nel mio disco, si chiama L'abisso, faccio riferimento a un film dell'orrore che si chiama Babadook che ho visto e che mi ha molto colpito. Adesso non ricordo il nome della regista, mi sembra che, so che è una regista, mi ricordo che è una donna, ma è un libro molto, parla dell'uomo nero, parla del cosiddetto uomo nero dei bambini. E adesso faccio, rivelo il finale, ma mi serve. Nel finale la famigliola che è stata, come dire, turbata. Jennifer Kent, mi segnalano la regista. Babadook, si ritrova in questo happy ending in cui il mostro vive con loro in cantina, la mamma porta da mangiare al mostro. E secondo me, come dire, diventa tutto meno pauroso, tutto più possibile. È quando li tieni fuori di casa che fanno paura i Babadook. Per cui sono d'accordo assolutamente con quello che ha detto Nicola. Viviamo in una società che purtroppo invece crea troppe recinti, delimitazioni, troppe categorizzazioni, il mostro è il mostro e noi invece siamo un'altra cosa. Noi siamo quelli che, per carità, mai potremmo diventarlo. E invece, secondo me, il suo libro racconta anche proprio questo. Ed è giusto, secondo me, che gli esseri umani del cosiddetto occidente comincino a passarci attraverso questa dolorosa consapevolezza, perché fa bene. Forse renderci migliori mi sembrano parole grosse, io non ci credo all'essere umano che diventa migliore, però, come dire, è sempre bene almeno prendere coscienza di quello che si è, ecco. Il... c'è anche un, come dire, un'analisi spietata sia in, diciamo, in Forever che nella città dei vivi, del cinismo della società di oggi, no? Da un lato nei testi delle tue canzoni, ma anche in qualche riferimento di Nicola, quando dice che viviamo ormai in una società in cui si confonde il culto della bellezza con il culto del denaro. Cioè, oggi si adora Rihanna, dice a un certo punto Nicola, per i suoi 80 milioni di follower, non per la bellezza probabilmente di una canzone che può fare, no? Ormai siamo arrivati a quello. E anche nei tuoi racconti, nei testi delle tue canzoni, c'è sempre questa analisi, come dire, forse anche un po' spaventata di una società in cui cinismo e nichilismo stanno diventando la risposta a tutto. Un post sui social diventa la forma di interazione con la società in un modo appunto cinico e nichilista. Sì, io dico sempre, anche in qualche intervista di questo disco, qualcuno mi ha detto è il cinico Francesco Bianconi, io no, in questo disco come non mai voglio dimostrare il contrario. Io mi dipingono così, mi dipingete così, ma non lo sono, io cerco il bene. Lo dicevi che Francesco cerca il bene. Che siamo diventati una, come dire, una volta nell'antica Grecia magari aveva anche un senso ed era una roba di elitto essere dei cinici. Adesso abbiamo prodotto appunto questo cinismo di massa che secondo me, insomma, mi ha anche abbastanza, come dire, stancato, non mi sento più tanto rappresentato. E che vuoi che ti dica? Sì, sono dal punto di vista per quello che riguarda il mio mestiere, sì, ci sono, i ragazzi vogliono, guardano le visualizzazioni, guardano più che, sembrano passati 200 anni rispetto a quando abbiamo cominciato noi come band. Io lo dico spesso e sembra di passare per quello che fa il falso modesto. Io con i Baustelle ai miei tempi non si pensava al successo, ma proprio non ce ne fregava assolutamente nulla. Pensavamo al suono, semmai, ad essere diversi da chiunque. Adesso vedo che i ragazzi sono molto, invece, pensano allo spaccare, a fare i milioni di visualizzazioni, a fare i soldi, detta molto volgarmente. Forse è un po' perché non hanno, viviamo, sì, viviamo un mondo che non lascia troppo tempo, quindi per certi versi io mi sento un privilegiato. Io, come dire, ho avuto la possibilità di agire in un mondo che ancora faceva sì che io potessi fare un primo disco e non vendere dei dischi, che me ne facevano fare un altro, e quindi ho sempre un po' fatto, utilizzato la libertà creativa nella maniera più totale. Adesso è tutto un po' come, questa è l'unica chance possibile, per cui devo assolutamente tentare il colpo di rapina, e per tentare il colpo di rapina devo, in un certo senso, omologarmi nei suoni, fare la mia musica uguale a quella che so essere la musica che vende o che fa le visualizzazioni. In questo modo che Nicola ci facesse vedere invece il lato dell'operatore culturale più che dell'autore in questo caso, cioè come organizzatore del Salone del Libro di Torino vedi che anche il mondo della cultura si sta muovendo verso questa logica? Allora, guarda, noi siamo stati effettivamente abbastanza fortunati come generazione da questo punto di vista, perché siamo cresciuti, e qui in musica e letteratura si parlavano molto. Sarà stato, come ti posso dire, tutto l'eco del post-punk arrivato sino a noi, dove del successo fondamentalmente si diffidava. Cioè il concetto era, ma questo disco o questo libro è bello o è commerciale? Questo era, come dire, la base da cui si partiva. La base da commerciale era proprio una roba che ti faceva schifo, cioè tu dovevi diffidare il successo. Al massimo il successo era contemplabile se ti distruggeva. Se è arrivato e ti distruggeva, ti faceva pezzi, proprio ti ammazzava fisicamente, allora era passabile. Altrimenti questa cosa qua no. Quindi poi è cambiato effettivamente tutto quanto. Poi certo, questo diffidenza del successo ha poi anche magari portato anche a delle strutture diverse, che poi ognuno si sentiva bene nel proprio ghetto e cercava appunto di non mettersi mai in gioco, perché pure quello, come dire, è un... Cioè ogni situazione, come dire, ha le sue fisse. Sai, il mercato del libro è un mercato talmente più piccolino rispetto a quello della musica. Certo, la musica è cambiata moltissimo nel frattempo, questa è anche un'altra cosa. Io, noi eravamo ragazzi quando si vendevano milioni di dischi e adesso invece l'aspetto economico... A me la cosa proprio, scusate, strana da questo punto di vista. La cosa che diceva Francesco delle visualizzazioni, sarà che forse noi siamo veramente del Novecento e quindi questa cosa qua... Cioè le visualizzazioni non sono manco euro. Cioè non è che se hai 500.000 visualizzazioni ti bonificano 500... Certo, aiuta, ma c'è questa cosa qua. Bizzarra, per cui tu sei portato a dare questa cosa qua, valore, anche se poi la persona che più se ne avvantaggia non sei né tu, né una casa discografica, ma sono praticamente... Scusate se faccio un discorso, per esempio, un po' marxiano, ma sono il proprietario di YouTube, il proprietario, so, delle gramme di piattaforme elettroniche. E allora io la domanda che mi faccio, per tornare a Nove, da questo punto di vista, è questa. Cioè, in Amen, se non sbaglio, c'era il liberismo ai giorni contati, una canzone dei Baustelle. Uno si domanda. Nel frattempo sono passate un po' di crisi economica, cioè il liberismo ci è crollato intorno. Il problema è che poi però il liberismo rimane in te. Cioè nel momento in cui crolla, capito, la struttura economica, tu non puoi più fare i soldi che facevi prima, però ti accontenti di diecimila, centomila visualizzazioni, che però non è detto che si traducano in un vantaggio personale per te, ma si traducano in un vantaggio personale per un altro. Quindi sono passati un po' di anni, ma il problema è, nel momento in cui il liberismo ti crolla intorno, ma rimane in te, c'è bisogno di un esorcismo di gruppo. Forse l'esorcismo, e forse ancora una volta, la musica o la letteratura possono essere, il teatro possono essere questo tipo di esorcismo. Cioè l'arte come gesto e come rituale, oltre che come semplice fruizione di qualcosa. Esatto. Sono d'accordo con te. Il liberismo, casomai anche crollasse, continuerebbe dentro di noi in una forma, in una forma un liberismo dello spirito, come se il mito del mercato a crescita infinita finirà, ma entrerà dentro di noi e ci muterà, ci sta mutando come esseri umani. Le visualizzazioni sono una cosa diabolica, se ci pensi, perché sono anche più immateriali rispetto al... prima parlavo di rapina ai soli, fare il colpo, no? Le visualizzazioni sono proprio la materia dell'apparenza, sono un paradosso in sé, però ci massaggiano, massaggiano l'ego, per cui sono assolutamente uno specchio dei nostri tempi e ci hanno modificato, secondo me, hanno modificato il nostro brain frame, di tutti, le visualizzazioni. Ah, il piacere delle visualizzazioni, anch'io vado a vedere quante visualizzazioni... Cioè, voglio dire, io non sono assolutamente immune da questa cosa. A proposito... Però mi immagino, penso spesso ai giovani, penso appunto a mia figlia, che ha sette anni e già guarda le visualizzazioni sotto il video di YouTube della sua Beniamina, per dire... E ci ha cambiato, ci ha cambiato come esseri umani. Ma a proposito di cambiamento e di crisi, non è una crisi legata al sistema appunto economico, capitalista, eccetera, eccetera, però il Covid sta portando una crisi importante sicuramente nel settore musicale, perché i concerti sono fermi da un anno e i concerti sono il motore economico della musica. Dall'altro punto di vista, hai appena parlato di cambiamento e prima dicevamo ne usciremo migliori. Anch'io non credo che questo possa portare a un mutamento in positivo delle persone. Anzi, probabilmente chi è tra virgolette buono migliora, chi è tra virgolette cattivo peggiora con una situazione di questo tipo. Ma al di là di questo, i vostri ambiti, come li vedete al di là con uno sguardo oltre l'orizzonte della crisi che ha portato questa pandemia? Guarda, il salone del libro è stato un disastro con la vicenda del Covid, perché noi avevamo organizzato, avevamo messo su 1520 e abbiamo dovuto smantellare tutti quanti, dopodiché ne abbiamo messi su 150 e per dicembre ne abbiamo dovuto smantellare perché c'è stato il DCPM. Quindi quando si torneranno a... Mentre i libri, devo dire, hanno abbastanza resistito. Cioè nel senso, i libri si è trovato un modo per acquistare il mercato editoriale più o meno il libro, questa cosa bizzarra, che essendo sempre identico a se stesso, cioè non ha cambiato formato come è successo per esempio con la musica, il libro non ha mai grandi impennate, cioè non vedrai mai nel mercato editoriale che è un più 10% da un anno all'altro, ma difficilmente vedrai un meno 20. Quindi più o meno il libro è rimasto uguale, gli eventi invece sono abbastanza un casino e ora speriamo la primavera prossima di poter rimettere su tutto. Secondo me, la cosa che io dico, ecco adesso lo dico anche pubblicamente, magari i miei, come dire, i referenti istituzionali del Salone mi bacchetteranno, ma quello che io continuo a dire a loro è che bisogna, cioè queste fiere, questi devono cominciare a diventare anche produttrici di contenuti. Per esempio, cioè devono, i produttori di contenuti, che già lo sono in parte, per esempio Francesco con tre Saloni fa, con Alessandro Baricco, fecero una versione di Steinbeck, di Furore di Steinbeck, fu bellissima, che noi abbiamo coprodotto, però poi se fossimo stati quindi più intelligenti di così, l'avremmo poi portata in tutta quanta Italia. Ma questa cosa, il Salone del Libro non lo fa perché è una fiera e quindi non c'ha la struttura per fare queste cose qua. Però, proprio perché tu sei una fiera e quindi sei virtualmente in contatto con alcuni tra i più importanti scrittori, musicisti, artisti, scienziati, eccetera, eccetera, dovresti trasformarti anche poi tornerà il momento di ritrovarsi tutti quanti insieme in produttore di appunto contenuti. Questo secondo me, io ho visto, ho molto rosicato perché evidentemente hanno dei finanziamenti e una situazione migliore. C'è l'app The Berliner Philharmoniker che è una cosa pazzesca, è fatta con la Deutsche Bank, poi sono andato a vedere come cacchio hanno fatto a fare un'app così figa, ma ci stanno tutti quanti i concerti, le interviste ai direttori d'orchestra, eccetera, e la gente si abbona, cioè spende soldi per questa cosa qui. Quindi bisognerebbe fare il meglio, cioè noi il meglio rispetto al Berliner, ma il meglio rispetto a quanto facciamo adesso tutte queste cose qua. Cioè non si tornerà secondo me totalmente alla situazione di prima, atterreremo in una situazione ibrida, secondo me, in cui ci sarà spazio per entrambe le cose. Sono d'accordo, sono d'accordo e bisogna secondo me attrezzarsi tutti, anche per quanto riguarda la musica, alcuni lo stanno già facendo, magari non in Italia, però vedo che si stanno muovendo delle forme di... Produzione di contenuti, forme di produzione di contenuti alternative a quelle che conosciamo. È ovvio che io mai come in questo maledetto anno avevo voglia di suonare dal vivo, era il mio primo disco da... Questo disco solista sembra... aver fatto un disco per la prima volta, per cui avevo veramente voglia di fare questi benedetti concerti ed è arrivata questa piaga biblica dall'alto, va bene. Però, come dire, immaginando lo scenario post-Covid, proprio perché sono convinto, come dice Nicola, che non ci sarà una risoluzione così, schiocchiamo le dita e tutto torna magicamente come prima, secondo me bisogna e io un po' ci sto anche già lavorando, bisogna pensare a delle forme di produzione di contenuti alternative a quelle che conosciamo e che è anche una cosa divertente devo dire, in tutta questa tragedia, in questo periodaccio che stiamo attraversando c'è anche questa cosa che è positiva secondo me, ovvero questa cosa di ingegnarsi un po' a cercare dei modi alternativi per raccontare per raccontare. Prima di arrivare alla chiusura volevo chiedervi se, Francesco, quando tu leggi ti immagini una colonna sonora di quello che stai leggendo e a Nicola invece qual è stata la colonna sonora di sottofondo della città dei vivi? Io quando leggo non mi immagino colonne sonore soprattutto quando entro come nel caso ad esempio della città dei vivi quando entro in modalità di lettura profonda io vado in trance sono anche molto veloce nella lettura per cui è come se come se si formasse un film come se si formasse un film ma chissà perché questo film non mi non penso alla colonna sonora io si materializza il romanzo nella mia testa e io cado in trance praticamente o in una cosa molto simile alla trance però non penso alla musica può succedere che a volte mi metta della musica di sottofondo mentre leggo ma poi non la sento più ecco per cui sono sincero una volta tanto della musica me ne frego Nicola che musica ascoltavi hai visto che diventerà una serie hai già immaginato che colonna sonora potrebbe avere guarda grazie al cielo però su queste cose qua lo scrittore e l'autore ha pochissimo potere decisionale quindi no non me la sono immaginata anche perché se me la immagino non lo so non me la sono immaginata perché poi magari mettere la musica che io amo che non c'entra niente con la musica diciamo che dovrebbe risuonare in quegli ambienti tra quei ragazzi e in quella generazione lì perché poi la musica guarda molto anche a questo guarda anche io mentre scrivo dite la verità non ascolto zero musica perché altrimenti mi distraggo però prima e dopo sì soprattutto dopo io ogni giorno per esempio cerco di farmi delle lunghe passeggiate se ho la possibilità dopo che ho finito di scrivere per scaricare perché sai stare seduto davanti a un computer veramente accumula un po' di tensione che viene scaricare io cammino cammino per la città faccio questa cosa qua e mi viene un po' da disperato e lì ascolto in continuazione musica invece questa cosa qua ci sono sacco tra l'altro siamo Friedel Walkman noi quindi col telefonino non è che fa tanto differenza quella roba lì è sempre rimasta benissimo io vi ringrazio perché abbiamo fatto veramente un racconto interessante un incrocio di sensibilità e di creatività che non mi immaginavo ringrazio quindi Francesco Bianconi e Nicola Laggioia grazie Forever e la città dei vivi sono due cose di bellezza che in questo momento servono sempre ma in questo momento forse un pochino di più grazie ancora a tutte e due grazie a tutti